Ora la visita a Montenero Domo, in provincia di Chieti, di Nancy Pelosi d'Alessandro, la speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America, la terza carica USA. Per lei si tratta di un ritorno alle origini, visto che nel comune sangrino è nato il nonno paterno, Tommaso d'Alessandro, che all'età di 23 anni decise di partire per l'America, dove vi arrivò nel 1891. La Pelosi, la vedete in queste immagini, ha deposto una corona dall'oro al monumento ai caduti, ha poi visitato la chiesa dove venne battezzato suo nonno in piazza Benedetto Croce e dove è stata ricevuta dal sindaco di Montenero Domo, Angelo Piccoli. Nella stessa piazza si è svolta la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria. Nel corso della visita la Pelosi ha incontrato anche il presidente della regione, Marco Marsiglio, che ha portato il saluto degli abruzzesi. Nancy Pelosi, 82 anni, deve il suo cognome a Paul Pelosi, uomo d'affari californiano.